Coppola al termine della sconfitta per 1-0 con il Vicenza, una partita decisa dalla giocata di un singolo. Forse è un peccato che la giocata tua da singolo, quel colpo di testa, dopo non sia stato convalidato. Cosa è successo in quell'occasione? Sì, il direttore di gara, subito dopo il gol, ha spiegato che nell'angolo, sul cross del lancio di Jocic, la palla era uscita dal campo e quindi non era convalidato. C'è il rimpianto sicuramente, volevamo cercare i tre punti e magari con il mio gol l'avremo un po' riaperta e si riparte subito la settimana prossima. È stata una partita difficile anche per voi difensori, che però fra te e Calabrese avete lottato su ogni pallone contro uno Ura in splendida forma. Che partita è stata per voi? Sicuramente difficile perché abbiamo trovato due attaccanti di struttura che sapevano giocare tra spizzate, proteggevano la palla, eravamo uomo contro uomo, però direi che l'abbiamo gestita abbastanza bene. Insieme a mia compagna Calabrese ormai abbiamo un po' di intesa, anche siamo dello stesso paese, quindi ci conosciamo già da un po'. Rimane il rammarico per la sconfitta, anche perché il Verona aveva fatto un secondo tempo che sembrava superiore a quello del Vicenza. Con che spirito ripartite? Sì, sicuramente c'è il rammarico perché il secondo tempo abbiamo giocato praticamente tutto nella loro metà campo. Ripartiamo subito da lunedì con la voglia di vincere e cercare i tre punti a Cittadella settimana prossima.